Blitz delle fiamme gialle in Campania, nel mirino dei baschi verdi, maschere di carnevale e gadget di San Valentino non sicuri. Oltre 225.000 articoli contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza tra Napoli e provincia. 22 persone sono state segnalate alla Camera di Commercio per violazioni e dettami del Codice del Consumo e altre 8 all'autorità giudiziaria a vario titolo per i reati di frode in commercio e ricettazione. Le fiamme gialle hanno eseguito controlli a Napoli, in particolare nella zona di Gianturco, dove sono stati posti sotto sequestro circa 173.000 articoli di San Valentino, con il marchio Cennon conforme, ma anche nei comuni vesuviani e nelle isole del Golfo. Nel Salernitano, poi, in due esercizi commerciali di scafati e cava dei tirreni, scoperti oltre 140.000 articoli, a Pagani invece oltre 38.000, in entrambi i casi non riportanti adeguate indicazioni e avvertenze per l'uso in lingua italiana previste dalla normativa in materia di tutela del consumatore. I titolari dei punti vendita di origine asiatica sono stati segnalati alla competente Camera di Commercio per l'irrogazione delle previste sanzioni amministrative.